Rimanete aggiornati sulle ultime mosse di mercato della Juventus oggi. Mostrate il vostro supporto con un like e iscrivetevi per rafforzare il nostro lavoro. I bianconeri, oltre a un centrocampista, dovrebbero anche aggiungere un nuovo difensore alla rosa quest'estate. Recentemente, c'è stata la partita tra Ucraina e Italia, dove il match è finito in pareggio, ma l'Italia ha conquistato un posto all'Euro 2024. Il protagonista di questa partita è stato il difensore italiano Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno ha avuto un ottimo rendimento contro l'Ucraina. Il difensore è stato attento e duro negli interventi quando necessario, ricordando molto lo spirito di Giorgio Chiellini. Alessandro Buongiorno ha attirato l'attenzione dei bianconeri, che sembrano pronti a procedere con una trattativa con il Torino. Secondo fonti, la Juve cercherà di replicare lo stesso affare che ha portato Bremer poco più di un anno fa. Buongiorno ha 24 anni e un valore di mercato di 20 milioni. Per te, l'acquisto di Alessandro Buongiorno sarebbe un buon affare?